Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi girare, fammi girare, fammi girare. Fa il spazio a Gennaro. Allora, fate il spazio a Gennaro. Sposto in buono. Lui spera nel tanto di dieci giorni che è il tempo in cui si dovrà per forza tenere il prossimo Consiglio regionale. Non è solo per gli esperatori che il tribunale ordinario utilizzava giù. Si va avanti di forzatura in forzatura, di illegittimità in illegittimità, e quindi si mette a repentaglio il futuro di questa terra. A metà luglio scadono cassa integrazione interna che rischiamo che i lavoratori vadano in libertà. C'è la crisi del porto di Napoli che avanza, con i lavoratori che rischiano di venire licenziati. Ogni giorno andate a vedere che cosa succede nel pendolarismo della circostiana che continua a sottolineare i treni, quindi un trasporto pubblico devastato. 1.500 e 3 terzati in Messina, per strada da Gennaro, che attendono risposte ed è un mese che sono passate le elezioni e non abbiamo ancora un governo regionale. Quando questo è successo a livello nazionale, hanno accusato il Movimento 5 Stelle di essere irresponsabile perché per 20 giorni, secondo i giornalisti, non faceva fare il governo a terzati. Adesso scrivete e raccontate chi è che da un mese viene in ostaggio alla campagna, che mette il futuro della campagna a repentaglio, rincolandolo alla risoluzione dei propri guai giudiziari. Noi vogliamo che si vada immediatamente a governare, si vadano a risolvere concretamente i problemi della campagna, chiediamo che si torni a votare perché questo è un modo troppo incerto e troppo veramente spazzato per cominciare la decima legislatura in campagna, che mette a repentaglio tutti gli atti successivi che potranno venire impugnati. Quindi si crea un'incertezza ulteriore che veramente non fa bene alla nostra terra. Quindi noi chiediamo certezza e chiediamo che ci si mette a lavorare. Abbiamo già pronti i provvedimenti concreti che sono risposte ai tanti problemi della campagna. Grazie. Grazie. Ragazza, non è andata, capite che tutti siamo pronti e noi ci salutiamo. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi andiamo a cercare di capire come dobbiamo proseguire. Dobbiamo fare il blog proprio. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Valeria. Ciao ciao. Mi saluto pure. E ora ce ne dobbiamo. Un abbraccio circolare. Finiamo. Sì. Non mi manca la protezione. Noi andiamo a cercare di capire come dobbiamo fare ci siamo. Noi andiamo a cercare di capire. E quindi? E quindi? Non c'è niente. Non c'è niente. Io non vengo. Ora vado pure io. Vado pure io. Ciao Luigi. Ciao. 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 Sì. No ma non così. No ma non così. Chi fa troppo. Mettiamoci un po' fresca. Sì. Ci aggiorniamo venerdì. Certo. Hai raccolto un po' l'idea. Certo. Certo. Assolutamente. Ci aggiorniamo venerdì. Certo. Ci aggiorniamo venerdì. Certo. Ci aggiorniamo venerdì. sottotinta. Sottotinta. questo è un paio. No, al momento. No, no. No, no, no. No, non. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Dario! Dario! Grazie a tutti. No, 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 no ce le stiamo andando è finito ce ne puoi dimmi Jenny tu sai come tornare? si 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 la cosa bella è che tornerai con le idee dai pure un disconosciuto chi era? chi era? eh Girdasportiero poi ce ne andiamo poi ce ne andiamo ma togliti dal su si si no ma stavo basta non stare lei